Ancora una scuola chiusa a Benevento per un alunno risultato positivo. Si tratta della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo San Filippo dove sono già quattro le classi in quarantena. Necessario dunque lo stop alle elezioni e la sanificazione degli ambienti. Per quanto riguarda invece i contagi in provincia di Benevento l'ASLA ha comunicato 75 nuovi casi di positività su 1241 tamponi analizzati e intanto il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco torna a raccomandare prudenza e rispetto delle regole e annunciano nuova campagna di controlli. Ci sono delle norme di comportamento che vanno rispettate. Io dico sempre ai ragazzi in special modo anche ieri sera ma stasera starò di nuovo su strada a ribadire gli stessi concetti. Non è possibile stare in promiscuità, non è possibile stare con i bicchieri in mano o con le bottiglie di vetro addirittura davanti ai bar, davanti ai punti dove si somministrano gli alimenti perché questo è assolutamente vietato dal decreto. Casi che rendono necessari metodi coercitivi per garantire il rispetto della legge. Quando dinanzi a un bar troviamo 30 persone, 40 persone è assolutamente inaccettabile un atteggiamento del genere e quindi su questo credo che ci sia poco da fare. Noi saremo rigidi perché gli avvisi ormai sono stati fatti. La zona gialla non consente di non avere la mascherina, di non rispettare le distanze interpersonali.